Continua il mercato dei labartoccini fortinfissi Perugia. Tra gli arrivi del mese di maggio c'è l'opposto. Anna Maria Galic, classe 2001, con i suoi 199 cm, arriva dall'Austria, passando per la Slovenia, dove ha giocato la scorsa stagione con il nuovo Abranic di Maribor. Circa un mese fa, racconta Anna Maria, il mio agente ha menzionato per la prima volta Perugia e da lì in poi è andato tutta abbastanza veloce e sapevo che era un grande opportunità per me e non mi ci ha voluto molto per decidere. Quattro anni fa ho visitato per la prima volta Perugia con la mia scuola, una città meravigliosa, non avrei mai pensato che un giorno ci avrei giocato. A scuola ho studiato la lingua italiana per quattro anni, quindi non vedo l'ora di rinfrescarla di nuovo. Oltre alla bellezza di Perugia, anche l'alto livello del campionato italiano. L'Italia, continua Anna Maria Galic, è sempre stata la mia nazione numero uno nella pallavolo. Guardare i migliori giocatori che mi hanno ispirato e ora pensare di giocare contro di loro in campo è un sogno che si avvera. Conosco la professionalità, il lavoro e la passione per la pallavolo che c'è in Italia e anche lo spirito che gli italiani hanno per questo sport, riempiendo i palazzetti e sopportando le loro squadre. Qualcosa che non vedo l'ora di vedere dal vivo?